C'è stato un lavoro di intuito e sapienza per sovrapporre gli affreschi alle sinopie, ovvero le tele con le linee tinte di rosso usate dagli artisti del 1400 per dare l'ossatura agli affreschi. Quelle tele, una sorta di progetto nell'intonaco sul quale poi si costruiva il disegno vero e proprio, sono state ritrovate a Pesaro, in possesso di chi, negli anni 70, era stato incaricato dalla soprintendenza al restauro delle opere all'interno della Chiesa Santa Maria della Misericordia, la cappella di famiglia dei Conti Ferretti a Falconara. Il restauratore infedele, strappando lo strato colorato, avrebbe conservato per sé quello sottostante. Un cold case risolto con il ritorno a casa delle opere a Castelferretti, grazie all'indagine avviata dalla Procura di Pesaro e condotta dai carabinieri del Nucleo di Tutela dei Beni Culturali, che sono riusciti con il supporto della soprintendenza a far combaciare ad esempio la linea delle ali dell'angelo che incorona la Madonna, che con il suo mantello protegge le persone dai pericoli e dalla peste che imperversava negli anni in cui fu commissionato la fresco. L'indagine è partita da una perquisizione e quindi poi il sequestro da un antiquario del pesarese, per cui poi si è arrivati al restauratore. Chi fa queste cose normalmente lo fa per uno scopo di lucro e l'idea che abbiamo avuto è che non è molto semplice dare via queste opere, che se una persona è un amante dell'arte può anche decidere di tenersele, almeno fino a quando, come sembra il caso specifico, non abbia magari una qualche necessità economica. Allora, probabilmente questo era il momento in cui queste opere stavano per essere immesse nel mercato clandestino. È stata chiesta l'archiviazione ai primi di marzo e passati oltre 20 anni, se non 40, sono tutti i reati prescritti. Questo ritrovamento può essere l'occasione per accendere i riflettori e quindi far sì che nella ribalta mediatica arrivi la chiesetta di Santa Maria della Misericordia e quindi anche una progettualità, un discorso di art bonus, quindi proveremo tutte le strade per cercare di valorizzarla al massimo. Nella stessa operazione sono stati sequestrati anche un altro affresco che dovrebbe essere stato asportato nel Civitanovese, una scultura linea, probabilmente da una chiesa di Ancona e una pala d'altare del Monte Feltro, che ora cercano la loro vera casa. Sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato, però cerchiamo di ricondurli al loro luogo di origine.